a venezia l'apertura del ponte emotivo per la madonna della salute il patriarca ha puntato l'attenzione sull'importanza della figura femminile nella nostra società lunedì alle 10 la diretta della messa su antena 3 le parole del patriarca moraglia sulla figura femminile sono pienamente condivise dal sindaco brugnaro che aggiunge bisogna garantire loro anche la massima sicurezza la mala del tronchetto era un'organizzazione criminale non di stampo mafioso lo ha stabilito il gruppo di venezia nella sentenza con cui è inflitto condanne per una cinquantina d'anni di reclusione secondo le ultime statistiche sta aumentando sempre di più il consumo di droga tra gli adolescenti nel veneziano e allarme crack visita in laguna domani del ministro salvini prima l'inaugurazione delle barriere che proteggono la basilica dall'acqua alta poi il sopralluogo alle paratoie del mose ultimo focus dell'anno dell'osservatorio economia e territorio di cna veneto super bonus in un anno meno mille imprese in regione il sindaco armelao annuncia la festa di capodanno in piazza per i ragazzi a chioggia così potranno rimanere in città divertirsi senza andare a rischiare la vita sulle strade ben trovati buonasera telespettatrici telespettatori di antenna a tre in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali l'apertura del ponte votivo con il patriarca di venezia moralia che ha puntato l'attenzione sul ruolo di maria e sull'importanza più in generale della figura femminile nella società un discorso carico denso di importanza che ha rivolto l'attenzione sulle tante prove che la città di venezia ha attraversato negli ultimi anni dopo aver percorso con sindaco e prefetti il ponte votivo dal pulpito della basilica della madonna della salute il patriarca di venezia monsignor francesco moraglia ha messo al centro la figura femminile di maria e l'importanza della donna nella nostra società abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione femminile in tutte le sue dimensioni perché è di lì che nasce il futuro dell'umanità è darsi di maria ma è anche darsi di una donna che accetta di accogliere la vita poi richiamo accolato alle prove che venezia ha affrontato in particolare in questi ultimi tre anni la nostra città sta sollevando il campo dopo prove ripetute e attraversare il ponte votivo per il patriarca significa riflettere sull'importanza di creare un dialogo in una festa vissuta da tutta la città il ponte che abbiamo inaugurato il percorso ci richiama la necessità di essere punti nei confronti soprattutto le popolazioni ruvate dalla guerra ed è importante che insomma dopo anche anni difficili di covid si sia tornati a pieno ritmo e con tanta gente anche oggi speriamo che sia un momento di riflessione un momento anche per diciamo guardare avanti e che insomma la festa della salute richiami tanti veneziani intanto lunedì 21 novembre dalle 10 in diretta su antenna 3 la celebrazione della madonna della salute in diretta da venezia infatti trasmetteremo la santa messa in occasione della storica celebrazione in ricordo della guarigione dalla pestilenza che colpi venezia nel 1630 appuntamento quindi con la nostra diretta lunedì 21 novembre alle 10 e per chi lo vorrà partiremo un po prima alle 9 e 45 per raccontarvi una giornata sempre importante per la città e non solo dalla figura femminile nasce il futuro dell'umanità lo avete sentito poco fa il patriarca moraglia a parole che sono pienamente condivise anche dal sindaco brugnaro riscoprire in ogni dimensione la figura femminile è fondamentale per monsignor moraglia che ha inaugurato il ponte votivo per la madonna della salute con questo monito pienamente condiviso anche dal primo cittadino secondo me la donna è davvero la rivoluzione silenziosa che sta che sta raccogliendo la prospettiva quello che secondo me va fatto non dare lo spazio le donne per per obbligo con il famoso discorso del quote rosero ma le donne vanno per i loro meriti dobbiamo creare i servizi perché le donne possono possono partecipare alla vita collettiva alla vita lavorativa al fare carriera ma ma per loro meriti e allora perché loro possano farlo dobbiamo costruire quei servizi alla famiglia ai bambini soprattutto ma anche agli anziani eccetera che liberino la donna anche nella propria condizione e poi gli uomini devono fare un passaggio anche loro lo dico a me stesso così cominciamo devono far da mangiare anche loro devono portare anche loro i bambini a scuola devono pulire fare quello che possono fare per brugnaro però anche la sicurezza della donna va garantita la sicurezza del decoro dobbiamo ricordarcelo tutti tutti è la grande lezione della nostra civiltà e dobbiamo difendere la donna difendendo anche la sua sicurezza e a proposito di sicurezza il questore di venezia maurizio masciopinto ha fatto il punto della situazione in via piave è da un mese esatto che grazie alla disponibilità del dipartimento della pubblica sicurezza abbiamo messo in campo i reparti prevenzione crimine se cominciamo a vedere l'effetto oggi e non perché abbiamo cacciato dal cilindro la bacchetta magica ma perché è da un mese che stiamo lavorando a un certo tipo di controllo del territorio dando una serie di risposte a margine dell'apertura del ponte votivo il questore di venezia ha fatto il punto sulla preoccupante situazione di via piave a mestre dopo la recente espulsione tra le altre di un tunisino che gestiva l'attività di spaccio nella zona mi fa piacere quando ricordate che abbiamo inaugurato un metodo che ho chiamato metodo venezia che è quello che abbiamo utilizzato in campo santa margheriti al quale stiamo lavorando in sinergia c'è stato un impegno importante in sede di comitato mi fa piacere dirlo da parte anche di carabinieri e polizia locale che contribuiranno con favorire le espulsioni degli regolari mascio pinto ha evidenziato anche l'importanza del rapporto diretto con i cittadini parlare in un camper non è la stessa cosa che parlare in un ufficio di polizia il cittadino si sente un po fuori da quell'ambiente che a volte ti può creare anche ti può mettere in soggezione diciamo così invece un colloquio per strada ma io ci tornerò nei prossimi giorni già ce l'ho in programma però in un colloquio diretto chiaramente si crea anche una relazione per cui è più facile avere un'informazione che poi naturalmente abbiamo smistato a chi è ai nostri uffici quelli competenti la cronaca un'indagine dei carabinieri di porto gruaro ha portato a un provvedimento di fermo nei confronti di tre albanesi di 35 30 e 27 anni accusati di un totale di 18 furti in abitazione fra tentati e messi a segno i colpi sono avvenuti fra il 31 ottobre il 15 novembre nei comuni di porto gruaro concordia sagittaria san michele al tagliamento musile di piave a zanno decimo e chionosi in provincia di pordenone oltre alle varie prove a carico dei tre nel corso delle perquisizioni carabinieri hanno trovato denaro contante oggetti preziosi che sono stati già riconosciuti dai derubati secondo gli investigatori l'intenzione era quella di lasciare l'italia a breve da qui il provvedimento di fermo ed è allarme nel veneziano per la droga in particolare il crack secondo le ultime statistiche sta aumentando sempre di più il consumo di droga tra gli adolescenti nel veneziano è allarme crack lo stupefacente a base di cocaina che mischiata a bicarbonato o ammoniaca si assume in alandolo con effetti irreversibili su corpo e mente anche noi abbiamo avuto un aumento in questi ultimi anni soprattutto di pori assuntori tra cui quelli in cui il passaggio è stato la sostanza tipo la cocaina narrata a quella fumata quindi il crack gli effetti gli effetti sono sicuramente molto pesanti dal punto di vista della salute e del benessere in quanto è una sostanza che induce una elevata dipendenza una una rapida assofazione e soprattutto a una ricaduta sul comportamento un comportamento che può diventare aggressivo e soprattutto con degli sintomi psicotici evidenti da qui quindi ricoveri a pronto soccorso in spdc quindi in psichiatria è una condizione di estremo disagio e malessere proprio nella relazione quotidiana che la persona ha col mondo per il serd è importante intervenire il più presto per salvare gli assuntori di droga dalla dipendenza cronica è più si allunga quell'intervallo di tempo tra l'uso l'uso problematico e la richiesta poi di aiuto e quindi la cura più aumenta la possibilità che effettivamente quella situazione psicopatologica sia organica che psichica che psicologica si protragga nel tempo e da qui la cronicità la mala della tronchetto era un'organizzazione criminale ma non di stampo mafioso lo ha stabilito il gruppo di venezia nella sentenza con cui è inflitto condanne per una cinquantina d'anni di reclusione 14 dei 21 che avevano scelto il rito abbreviato altre 56 persone tra cui i presunti boss gilberto boatto e paolo pattarello sono state rinviate a giudizio di fronte al tribunale il processo si aprirà il prossimo 19 aprile la pena più pesante 12 anni di reclusione è stata inflitta l'orissa trabuio indicato dalla procura come uno dei dirigenti dell'organizzazione criminale ritenuto responsabile di rapine estorsioni e spaccio di droga il venire meno dell'accusa di associazione mafiosa appare però una sconfitta per la procura che ha insistito su questa linea nonostante fosse già stata esclusa un anno fa dalla giudice che ha emesso la misura cautelare soddisfazione invece da parte della difesa voltiamo pagina domani visita in laguna per il ministro alle infrastrutture matteo salvini il servizio arriva per la seconda volta in due mesi il vice premio e il ministro delle infrastrutture matteo salvini sarà domani in visita a venezia un ritorno dopo esso incistato già a settembre in occasione della mostra del cinema ma la prima volta da ministro del nuovo governo in carica il capitano della rega arriverà in città già questa sera e domani sarà in piazza san marco per inaugurare le nuove raste in vetro barriere mobili provvisorie che da pochi giorni difendono la basilica in caso di alta marea così spiega solo per i nostri emittenti il significato della visita dell'area bravenza capo dipartimento del ministero delle infrastrutture domani è una giornata speciale per venezia perché il patriarca moraglia alla presenza del vice premio e reministro delle infrastrutture e dei trasporti salvini del presidente zaia e del sindaco brugnaro inaugurerà e benedirà le barriere in vetro che finalmente dopo decenni terranno definitivamente all'asciutto la basilica di san marco un risultato straordinario che testimonia l'impegno costante di questo ministero verso questa città un risultato tra l'altro visibile da tutti da tutti i cittadini che finalmente potranno godere della basilica in modo diverso il programma di massima della visita salvo modifica dell'ultimo momento indica l'arrivo di salvini in piazza san marco verso le 10 ingresso in basilica alle 10 e 30 per una visita privata alla cattedrale poi solo all'uscita verso le 11 l'inaugurazione ufficiale del barriere in vetro con la benedizione del patriarca francesco quindi il trasferimento all'isola artificiale del mose posta al centro della bocca di porto tra il lido e il punto sabioni per visionare attorno a mezzogiorno le operatorie del mose alle 13 e 30 circa il ritorno verso casa tamponamento tra due tire un'auto nel tratto maledetto della 4 una donna è rimasta ferita l'incidente è accaduto poco dopo le 17 e 30 in direzione di trieste sul posto i sanitari con i vigili del fuoco la polizia stradale e gli ausiliari del traffico di autovie venete la donna ferita era alla guida dell'auto coinvolta nello schianto inevitabili le code che si stanno registrando tracce salto e il nodo di porto gruaro sempre in direzione di trieste vi raccontiamo adesso la manifestazione di questa mattina a venezia degli studenti contro il governo meloni no alla scuola dei padroni è uno degli slogan con cui oggi gli studenti sono scesi in piazza anche a venezia per manifestare contro il governo meloni al centro delle proteste l'opposizione alla misura dell'alternanza scuola lavoro e il caro istruzione tre studenti sono morti in un anno ha dichiarato francesca rosa militante del fronte della gioventù comunista mentre continuano a mandarci a lavorare gratis e senza tutela nelle aziende il ministro ci parla di merito non può esistere meritocrazia continua in un sistema scolastico classista che accentua le disuguaglianze tra gli studenti nell'accesso allo studio le nostre scuole cadono a pezzi conclude l'istruzione costa sempre di più ma si aumentano le spese militari i funzionari dell'agenzia delle accise dogane monopoli in servizio all'aeroporto marco polo in collaborazione con i militari della guardia di finanza di tessera hanno sequestrato quasi un chilo di coralli protetti dalla convenzione di washington erano all'interno del bagaglio di un passeggero italiano proveniente da zanzibar senza autorizzazione all'importazione era stato fermato per un controllo la merce è stata sequestrata e il passeggero denunciato rischia una sanzione da 13 mila a 5 mila euro sempre per la cronaca giudiziaria il tribunale di venezia ha dato ragione ai congiunti di donatella friani la 49enne di spinea negata dopo essere caduta in acqua dal natante del compagno a sottomarina ci sono voluti molti anni è una dura battaglia legale ma alla fine il tribunale di venezia ha condannato la compagnia assicurativa della barca ad un maxi risarcimento in favore dei familiari di donatella friani annegata in mare il 24 ottobre del 2014 a largo di sottomarina la 49enne a bordo con il compagno un 73enne padovano di cadoneghe era finita in mare con il suo cane mentre cercava di recuperarlo il giudice ha riconosciuto la totale colpa del conducente non solo per la manovra errata ma anche perché ha condotto la barca con condizioni meteo totalmente avverse non curante in alcun modo della tutela dei suoi trasportati in fase penale l'uomo dopo aver patteggiato era stato condannato a sei mesi di reclusione l'incidente in mare a un miglio e mezzo della costa era stato provocato da sue negligenze e per di più su di una barca che al momento aveva l'assicurazione congelata perché ferma durante il periodo invernale da qui il lungo iter giudiziario in sede civile la compagnia assicurativa ha rigettato per anni ogni richiesta di risarcimento mettendo persino in dubbio che si fosse trattato di un incidente nautico e sostenendo che la donna fosse caduta accidentalmente teoria non accolta dalla sentenza del tribunale ha condannato quindi il fondo vittime della strada sul mandato a generali assicurazioni a un fortissimo ed elevatissimo risarcimento a tutela della famiglia che ricordo purtroppo aveva era composta da due ragazzi uno dei due ancora minorenne due genitori e una sorella tutti legatissimi tra loro andando a ottenere un risarcimento che si avvicina quasi ai massimi delle tabelle previste. La pagina economica con l'ultimo focus dell'anno della CNA del Veneto Prima la pandemia ora il conflitto in Ucraina con i conseguenti rincari dell'energia e l'inevitabile inflazione per le imprese venete è una continua battaglia che sta fiaccando imprese e famiglie lo testimonia all'osservatorio economia e territorio di CNA Veneto. Continua ad essere un momento difficile perché siamo passati dalla difficoltà legata al Covid qualche tempo fa alle ulteriori problematiche sorte per l'aumento dei prezzi dell'energia soprattutto ma non solo adesso anche dell'inflazione che è legata anche a questo. L'ultimo dato dell'Istat di ottobre 2022 da un aumento dell'inflazione in Veneto di quasi 12 per cento trascinato ovviamente dai beni energetici del 55 per cento e anche dalla beni alimentari 15 per cento. In questo contesto ovviamente anche le imprese hanno costi maggiori per quanto riguarda l'energia che sostanzialmente sono un raddoppio di costi rispetto a quanto realizzato nel 2021. Nel focus di CNA si evidenzia come le imprese del sistema casa in Veneto sono diminuite in un anno di mille unità sebbene con il super bonus il comparto si è riuscito a trainare con oltre 40 mila interventi la regione a secondo posto a livello nazionale dopo la Lombardia. I lavori conclusi superano i 4 miliardi di euro. I cambiamenti di rotta del governo sul super bonus però non giovano. Gli imprenditori chiedono più chiarezza a livello normativo. Grazie al PNRR sono in arrivo 3,9 miliardi di euro risorse che valgono il 6,2 per cento sul totale nazionale. Una boccata d'ossigeno per regione, denti locali e di riflesso anche per le imprese. Parliamo adesso di mobilità. Andiamo a Pellestrina. Nel centro di Chioggia è allo studio una nuova zona a traffico limitato. Chioggia è però un riferimento importante anche per i residenti di Pellestrina che solo lì trovano servizi fondamentali per esempio l'ospedale che invece in isola mancano. Ecco perché il Consiglio di Municipalità dell'Ide Pellestrina presieduto da Emiglio Guberti si è mosso per tempo e ha approvato un ordine del giorno all'unanimità per chiedere a Caffarsetti di interagire con Chioggia affinché i peristinotti siano considerati alla stregua dei residenti per le agevolazioni. Tenga conto delle esigenze, delle necessità che hanno i cittadini di Pellestrina che utilizzano Chioggia proprio come sbocco verso la terraferma o per utilizzare i servizi presenti a Chioggia sia i servizi ospedalieri, sanitari ma anche quelli commerciali. Spesso persone vanno a fare la spesa a Chioggia. L'ordine del giorno proposto da Antonieta Busetto, Fucsia e Matteo Pistorello Lega ha avuto la convergenza di tutto il Consiglio. In primis chi ha un box, un garage o quant'altro ma anche ha cittadini che hanno particolari esigenze proprio per accompagnare persone anziane o che hanno necessità di usufruire soprattutto dei servizi sanitari dell'ospedale di Chioggia. Vedremo di interloquire anche col comune di Chioggia per cui andremo a definire al meglio o meglio loro definiranno al meglio le concessioni che potranno concedere nell'ambito della ZTL. Annunciando un ricco programma di iniziative natalizie il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha deciso che per far restare i giovani in città ed evitare che vadano in giro di notte a rischiare la vita sulle strade ci sarà una festa di Capodanno in Piazzale Italia in collaborazione con Radio Company mentre in Campoduomo sarà allestita una pista per il patinaggio sul ghiaccio che sarà attivata il 3 dicembre e rimarrà fruibile fino al 22 gennaio. Tra le iniziative è previsto anche uno spettacolo pirotecnico sulla battigia per stare lontani dal centro e non disturbare gli animali e a partire dalla fine di novembre l'accensione delle luminari in corso del popolo e dell'albero di Natale in piazza così dunque a Chioggia. E da Venezia e provincia è davvero tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. A Venezia per le tue contravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader. Ben trovati al meteo. Una perturbazione interessa il centro-sud. Sul nostro territorio invece tempo tutto sommato buono. Il dettaglio di sabato 19 novembre. Sul Veneto prevarrà un cielo nuvoloso con copertura più significativa in pianura, schiarite più presenti invece in montagna. Sarà probabile qualche isolata precipitazione sulle zone costiere e sul Polesine spruzzate di neve dai 1200-1500 metri di quota. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo molto nuvoloso. Avremo occasionali piovaschi alternati a schiarite sulla costa dove soffierà anche bora forte. Temperature minime sui 5-8 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo ben poche novità. Sarà irregolarmente nuvoloso ma qui con maggiori tratti soleggiati. Saranno più ampi e probabili nelle ore centrali. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader.